Parte oggi un progetto di straordinaria importanza per tutto il territorio della Romagna. Grazie al bando emesso da ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che possono aderire, nel caso della Romagna, tutti i territori che ne fanno parte. Capofila di questo progetto è il Comune di Rimini, per l'esperienza avuta in questi anni sulla pianificazione strategica, ma insieme con lui anche il Comune di Ravenna, il Comune di Forliecesena, tutte le unioni dei Comuni del Ravennate e molti dei Comuni singoli aderenti agli altri territori hanno sottoscritto l'accordo per far partire questo percorso di partecipazione. È un'occasione molto importante questa, perché il nostro territorio, il territorio della Romagna, può portarsi a casa, nell'asso di tempo di 11 mesi nei quali lavoreremo su questo progetto, un progetto di visione strategica, quindi l'indicazione di quali sono gli assi concordi a tutto il territorio della Romagna, sui quali sviluppare i progetti e con i quali puoi catturare le straordinarie risorse che in questo momento i territori sono in grado di raccogliere. Non solo questo, i Comuni dei singoli territori, grandi e piccoli, devono imparare a lavorare sulla pianificazione strategica, perché l'Europa chiede questo per poter finanziare poi i progetti, e quindi c'è un percorso anche di formazione per una parte della struttura tecnica, dei funzionari, dirigenti, dei comuni partecipanti al progetto per costruire questo percorso. Insieme arriveremo a costruire un modello di governance unico in Italia, perché da nessun'altra parte d'Italia, fra i bandi partecipati ad Anci, qualcuno si è impegnato a realizzare un progetto di area veramente vasta come il nostro. Al massimo sono progetti che sono rivolti all'ambito singolo provinciale, di una provincia. faremo scuola quindi anche sul territorio italiano per modelli di governance innovativi, come è giusto che sia da una regione innovativa come la nostra. Dobbiamo cercare, ambire a questa pianificazione strategica, lo dicevo prima, nel Comune di Rimini questo ha dato, credo, ottimi risultati, ma il risultato più importante è stato quello di condividere una traiettoria di sviluppo, e condividerla con l'associazionismo, con le categorie economiche, ovviamente con tutte le istituzioni coinvolte. I risultati sono stati positivi. Io credo che davvero la nostra Romagna possa intercettare al meglio le tante risorse che ci sono, che possono derivare dall'Europa, attraverso il lavoro che possiamo fare insieme. Quindi credo che oggi davvero sia un avvio, un avvio di un percorso, ringrazio ovviamente il Rettore per essere oggi qui con noi, ed è un segno tangibile di come un lavoro non possa prescindere, un lavoro insieme anche dalla presenza dell'Università, e quindi delle competenze che voi saprete darci e affiancarci. Sono molto contento che questo progetto possa rappresentare un punto di partenza di una collaborazione ancora più estesa, che porti tutti noi, enti territoriali e università, sulla stessa direzione in maniera tale da lavorare insieme nei prossimi anni. Su tutti i temi, ricerca, didattica, territorio, rapporti col territorio, terza missione, c'è anche la delegata alla terza missione qui presente, e questo testimonia ancora una volta quanto noi ci crediamo a questo progetto, alla realtà territoriale e alla crescita dell'Università insieme ai territori, perché questo è il punto più importante dal mio punto di vista da portare avanti nei prossimi anni. Da questo piano, veramente credo che dovremmo avere lo sforzo di definire quelle due o tre grandi progettualità, quelle due o tre grandi progettualità che non subiscano gli effetti del vento, del cambio degli amministratori, del cambio anche delle sensibilità dell'opinione pubblica, dove magari ci sono temi che per una fase vanno più di moda, per un'altra fase vanno meno di moda, quindi vengono o celebrati o accantonati. Le grandi progettualità sono quelle che uniscono i territori, uniscono anche sensibilità politiche diverse, uniscono città che comunque hanno identità anche diverse tra loro.